Unici, la nuova stagione in prima serata. Le storie, gli amici, le canzoni più belle di Eros Ramazzotti. Un ritratto di un grande artista italiano, con immagini esclusive del suo ultimo tour in giro per il mondo. Unici, Eros Ramazzotti, un pensiero speciale. Lunedì alle 21.15, Rai 2. Siamo unici o no? Grazie.